Salve, sono Nicola del Banificio Radesca, sono un banificatore professionista da ormai 22-25 anni, e abbiamo fatto questo video perché? Perché vi volevo guardare un attimino del corso di persiceria di Andrea Di Giglio, Accademia Di Giglio. Questo perché? Perché io, in tanti anni di vanificazione, praticamente, ad un certo punto abbiamo scelto di offrire una maggiore opportunità ai nostri clienti, aprendo anche un po' di pasticceria. Quindi, per via del tempo che manca proprio per questo lavoro, ho optato per scegliere un corso online, visto che in presenza era impossibile farlo. Quindi, praticamente, alla ricerca di tutti questi corsi di pasticceria, non vi dico che cosa ho potuto trovare su internet, di tutto, veramente di tutto. Alla fine, quasi, un pochettino, diciamo, di stanco, mi sono dibattuto in alcune lezioni di prova di Andrea, e quindi ho trovato queste lezioni davvero molto, molto, molto buone, davvero belle. Qui potete vedere giusto proprio una piccola rappresentazione di quello che noi stiamo facendo grazie ai corsi di Andrea. La cosa bella di questi corsi, che sono dei corsi altamente professionali, ma è adatta benissimo anche a chi non è abietto ai lavori. Quindi, anche la casalinga, la massaica, si vuole avventurare in questo magnifico mondo, può benissimamente usufruire di questi corsi di Andrea. Anche perché è una cosa molto importante dei corsi che, nel mio caso, io ho scelto la pasticceria classica e moderna, proprio per dare qualcosa ai nostri clienti. Abbiamo già in mente di acquistare degli altri corsi, in modo tale da ampliare ancora il nostro strumentario di offerte. E vi assicuro che il modo di spiegare, il modo di presentare ogni singolo argomento, perché vi assicuro che sono degli argomenti estremamente tecnici, quindi potrebbero sembrare, uno a parlare così, difficili, ma non loro, perché Andrea ha un modo di spiegare davvero molto lineare, molto puntuale e molto, molto, molto corretto. Quindi, automaticamente, come dicevo prima, anche le persone non addette ai lavori, possono benissimamente riuscire ad ottenere dei grossi risultati. Un'altra cosa molto bella di questi corsi è il fatto che Andrea vi è sempre vicini. Una volta acquistati il corso non sarete abbandonati, perché praticamente lui sarà sempre al vostro fianco con un'email, con quello che sia, basta mandare un'email per qualsiasi problema, anche a me è successo tante volte un problemino, un qualcosa, ho mandato un'email e vi assicuro che nel giro di neanche 24 ore, Andrea mi ha risposto in maniera puntuale, precisa e dettagliata sul problema che mi si è rappresentato. E così sarà anche per voi, questo lo posso garantire perché l'ho testato io direttamente. Quindi questa è una cosa che gli altri corsi non vi danno, perché avere un tutor come Andrea, che vi sta a fianco, è davvero un vantaggio, ma un vantaggio davvero notevole. E quindi vi assicuro che potrete avventurarvi in questo mondo della pasticceria e riuscire ad ottenere dei risultati come li stiamo ottenendo noi adesso, i nostri clienti sono davvero molto, però molto, molto soddisfatti di questi risultati. E ancora stiamo cercando di crescere, di studiare insieme al mio staff e quindi praticamente non ci perderemo certamente a questo posto qua, però ne compreremo ancora un altro di sicuro al 100%. Quindi a me non mi resta che salutarvi e invitarvi a venire nell'Accademia di Andrea Di Giglio. Quindi io vi saluto e arrivederci a presto. Arrivederci.